Bene, ci siamo, questa può essere decisiva Se vinciamo siamo campioni di Francia, giusto? Esatto, mamma mia che ansia Dai, tranquillo, vuoi che ti controllo io? No, no, sono agitato, non disperato, grazie Ah, simpatico Palla subito è buona per noi, forza Perfetto, non facciamoci prendere da panico, eh Un aiuto, la palla Ecco, appunto Tranquillo, ora mi calmo Bene, forza, allora tieni Ah, la palla, la palla, la palla, no, la palla, no Ma perché io la do ancora? Arriva a me, aiuto Passamela subito No, no, tienila tu No, non così, dai, ti prego, cerchiamo di vincerla Sono abituata a perderle Non passarvela Cosa, ma a chi lo do? Non lo so, ma non a me Oh, e che cavolo, non so cosa fare Tenito il primo tempo Ah, non ci voglio credere Va bene ragazzi, intanto lasciate un bel like E iscrivetevi al canale se volete supportarmi Come dico sempre, è gratis e io sono contento Non dimenticate che qua sotto in descrizione trovate il link per il mio libro Ah, e devo ringraziare Ottavia Minardi perché mi hanno dato un altro super grazie Se volete farlo anche voi, ovviamente sarete salutati così Basterà lasciare un like qua sotto dove c'è il cuore con il dollaro Ora andiamo avanti con il secondo tempo Ok, punizione di Mbappé Vuoi provare tu? Scordatelo Immaginavo, tieni No, cosa fai? Sei impazzito? Dai, fazza, devi superare sta paura Ma io non so come fare Basta allungare la gamba In che senso? In questo vai Ah, sì, è gol Sì Non ci credo ancora nostra, vai tu Forza, killino, sbagliare Attenzione, tiro, è gol Benissimo Attenzione, fa la buona per loro No, non possiamo farci fregare ora E bravo, chiuso Io non ho chiuso solo l'uomo Sì, è finita Gampioni di France E vai, grandi ragazzi Uh, uno è andato Forza, eh, vanno, abbiamo la semifinale con la Juve Ehi, là Cosa? Minivan Eh, sì, quello scarpone paurosone non voleva giocare contro la Juve Il solito codardo Eh, va bene, tu sei pronto? Assolutamente sì, chissene Bene, buona subito Mi raccomando, passa, lei non fa il cattivone Ci mancherebbe, eccola, tiro e gol Sì, se non sta mega forte, fra Un attento e chiuso Ah, ho chiuso la chiesa, l'hai capita? Sì, sei proprio il suo cugino Forza, bro, eh Cavoli, bel passaggio Sì, ma passala No, tiro io Ti sta bene, faccia di Faccia di serpente, eh Non dico parolacce io Oh no, ancora chiesa Tranquillo, non vado a nessuna parte Ah, però, che bravo che sei Puoi dirlo forte, bro Forza, palla buona Certo, la passa in bappé No, è in fuorigioco Uh, giusto, non ricordavo Ci siamo? È chiaro, bro Speriamo Via Cavoli, palla loro Attenzione, palla di pappà Chiudiamo, chiudiamo Bravo, complimenti, bro Punizione Ci provo No, niente Palla buona per noi Forza, passamela Attenzione, tiro e col sotto l'incrocio Vai, bravissimissimo Sì, stadio Banno non ne sarebbe troppo contento Possiamo chiuderla Allora, dammela Passaggio e... Ah, no Dai, fa niente, fra Attenzione, passaggio buono Forza, bro, non sbagliare Guardami Arriva, bro E non si sbaglia Sì, bro Arriva il tiro e parata Ah, sì Sono pure un mega portiere Attenzione, punizione nostra Mettila bene, però, eh Certo, arriva Uh, sembra bellissima Tiro e gol Sì, ci siamo Pintone, vai Grande, siamo in finale Vanno, hai visto? Sì, sì, ho visto Adesso la sopra la messa Bene, ora siamo in finale di Coppa di Francia Eh, giusto Andiamo Aspetta, prima dobbiamo fare un'altra cosa Cioè? Festeggiare il campionato Uh, hai ragione Eh, sì, campioni 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 Siamo stati fortissimi Adesso speriamo in bene per le altre partite Ecco, bravo Ti sei tranquillizzato ora? Eh, devo proprio rispondere? No, meglio giocare forse Sì, forse è meglio Ora tocca la semifinale di Coppa di Francia, giusto? Esatto, contro l'angeo Va bin Attenzione, agire in avanti Devo chiudere assolutamente Uh, piano fra Eh, oh, andava chiuso Palla buona, dai che siamo in aria Attenzione, passala Tiro e oh, niente E ancora lì Riprova macchie Pensa a te, comincia a venirmi nervoso E allora cerchiamo di rimediare Giusto, hai ragione Attenzione, guardami Arriva subito Tiro e gol Sì, sì, sì Bella, però giochiamocela Ma come parli? Scusa, mi ero abituato con minivan Arriva il tiro e gol di Mbappé Sì, è grande Occhio attacco da Lansher Tranquillo E chiuso Bene Attaccherò loro Di nuovo? Ma qua mi tocca spazzare più di Gianni Morandi a Sanremo E chiuso di nuovo Sì, non c'è Blanco che tenga Esatto, siamo in finale Bene, dai, mi sembra di più tranquillo Sì, dai Bene, ora possiamo fare le finali, allora Oddio, non ho mai fatto una finale Ecco, siamo a posto E manco è iniziata Mi trovano le gambe a iniziare così Beh, dai, dopo tutto sei solo un calciatore Quando ti servono le gambe Bene, la prima finale Beh, la finalina, insomma Chiamala come vuoi Ma senza questa compagnetta di triplete Sì, hai ragione Forza, iniziamo Un bel respiro E via Ancora nostro Non sprechiamo, vi prego Palle in mezzo Ma niente E infatti, ecco Vieni in avanti No, belli E bravo nella chiusura Thanks Ancora E non si passa Cavoli, che muro Vanno dei vuoli sia Punizione, forza Teniamo, eh, mi raccomando Sì, sì, giochiamo corto Ok, adesso paura tua Passaggio in mezzo Passaggio ancora Tiro e goal Sì, ragazzi, così, dai Oh, occhio, eh Tranquillo Ah, chiuso Visto? Oh, no, rimasta lì Cosa? Tiro e uff, fuori Oh, mamma mia Calcio d'angolo, palle in mezzo E uff Ancora lì Ecco la mia arrivata Trivela Ma cosa ti viene in mente? Eh, scuso, promazio Manca poco Potrebbe essere l'ultima azione E chiusi Sì, grandi Ed è finita Vittoria Sì, siamo campioni di Coppa di Francia Non penso si dica così Ma vabbè Bene, e ora quella più paurosa Eh già, adesso concedetemi un po' di paura Ci siamo Barcellona VSPSG Finale di UEFA Champions League Mamma mia, speriamo bene Sia chiaro, ragazzi La faccio al primo colpo Come va, va Ecco la Coppa Mamma mia Oh, grazie Ok, foto di rito Cese Non siete agitati, eh Proprio per nulla Non vedo grosse sorprese nella loro formazione Eh no, purtroppo Lewandowski c'è sempre Bene, si parte Dobbiamo iniziare bene con una bella palla nostra Rigore a loro Ecco L'ho già detto in sto video che devo stare zitto Attenzione, parte Lewandowski e gol Sì, ma non vale Ha fatto la finta, dai Ma ci vuole una bella botta di fortuna Rigore nostro Non ci credo, ha funzionato Ti prego, facciamolo Vabbè, tanto lo devi fare tu Lo immaginavo E va bene, forza Kili Attenzione, parte il tiro E con sotto l'incroggio 1-1-6 Ok, ora attaccano Siamo concentrati Assolutamente Attenzione, Lewandowski La passata 1-1-0 in aria Ma arriva Renatone Sanchez Eh sì, bravo Ok, calcio di punizione Passaggio corto Forza, continuiamo Attenzione, provo e Oh, ma quelle rigore Ma spacco tutto come Blanc Sì, ti piacerebbe Ok, va bene, in realtà ho provato Attenzione, ci sono loro in avanti Ah, mannaggia, chiudiamo, dai Occhio, sta arrivando Lewandowski Ma è sempre lui, è un incubo Attenzione, ancora l'inaria È chiuso Uff, mamma mia, che fatica Fa la nostra occasione di cross Ma poi perché lo chiamano così Che siamo a metà campo? Attenzione Ah, al posto di dire stupidate Concentrati Oh, scusa Forza, ancora nostra Ecco, vedi, qui ci sta il cross Ah, devo inventarmi qualcosa Palle mezzo Ah, sbagliato Ancora Tiro di Zilischi Uh, parata Uh, a momenti la puccia a lui Siamo ai supplementari Forza, potrebbe essere un'ultima occasione Tira, 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 dai Ah, no, tocca a te Ok, tiro e gol Sì, ci siamo riusciti È finita Cappiani d'Europa E soprattutto Triplete Mai stati in via Ah, no, scusate Quello non c'entrava Ah, ma che bello Tutto vinto Ah, già, è proprio bellissimo Ma ora? Eh, non lo so, avrei anche l'Atletico Varese da allenare Ma non so cosa fare Ho capito, ci penso io O meglio ci penserete voi Cosa dovrebbe fare il cerzette dei poveri? Rimanere calciatore e magari cambiare squadra? Oppure tornare all'Atletico Varese? Commentate con hashtag giocatore o hashtag allenatore a seconda di quello che preferireste E ovviamente verrete salutati Ci mancherebbe altro E a proposito di ciò, facciamo subito un bell'angolo dei saluti Saluto Andrea Semenza Ciao Axiao Fan Saluto Mac Mark Vanno, mi fesso di dire sempre Ti ringrazio, sono contentissimo Ciao Saluto Riccardo Bortolini Ciao a Team Fire X Ciao a Ismail Anif Spero sia giusto Vanno, continua così Ti ringrazio tantissimo Ciao Saluto Andrea Temporino Ce ne siete dei poveri a Napoli Questa cosa me l'avete scritta in tantissimi Vediamo, eh Si può fare Vediamo 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 anche le offerte che arrivano Perché ancora non le ho controllate Vi dico la verità Vedremo Saluto, questo è complicato Joyce Acqua Nicchettia Spero sia giusto Perché non porti più GTA V Allora, GTA V Effettivamente è un po' che non lo porto Un po' Halloween Vabbè Lo recupererò Lo recupererò Saluto Meratti Gaming Mettici dei poveri Nella Limentus con Vlaovic chiesa Chissà che trio Eh, non sarebbe male anche quello Vediamo raga, vediamo Eh, magari faremo un sondaggio nei prossimi giorni Che squadra dovrebbe andare C'è l'estate dei poveri Se vince il giocatore Se no, se vince l'allenatore Basta Va al Teddi Covarese Saluto Adè Ciao Vanno Puoi fare C'è l'estate dei poveri alla Roma Grande Vanno Anche lì potrebbe andare Perché no Vediamo Vediamo Saluto Alessandra La Leroose Pensi che mettere c'è l'estate dei poveri In un'altra squadra? A seconda di quello che succede Nei commenti di questo video Deciderò per c'è l'estate dei poveri Ormai abbiamo capito Che il giorno di c'è l'estate dei poveri È il venerdì Quindi la serie andrà avanti Ogni venerdì Per una questione di tempo Più che altro Perché devo anche darvi il tempo Di commentare Se non diventa complicato Saluto Emy Mad Global Porta c'è l'estate dei poveri A Palermo Eh, anche a Palermo Starebbe carino Dai, vediamo raga Vediamo Saluto Tigi Digno Ciao Vanno Sei mio frito Ti ringrazio tantissimo Ciao E per ultimo Non per ultimo Saluto C.B È una B quella Sì Grande Vanno Sei fortissimo Ti ringrazio tantissimo Ciao Bene ragazzi Gli hashtag Ve li ho già detti Quindi non c'è bisogno Non dimenticate comunque Di lasciare un bel like Per il nostro C'è l'estate dei poveri Che è sempre contento Di vedere i like Iscrivetevi al canale Se volete supportarmi Come sempre vi dico È gratis Se io sono contento Qua sotto In descrizione Trovate il link Per il mio libro E se volete essere Salutati all'inizio Del video Mettete un bel Super grazie Che lo trovate qua sotto È il cuore Con il simbolo del dollaro Noi ci vediamo Come sempre Ogni giorno Con un nuovo shorts E in mercoledì E venerdì Con altri Due nuovi video lunghi Bella ragazzi Ciao Vedremo come andrà Anche perché L'Atletico Varese È un po' che non lo guardo Speriamo bene Alla prossima Alla prossima